bella a tutti ragazzi bene ritornati sul mio canale come potete vedere oggi andremo a fare un pacco opening ma prima vi voglio fare vedere una cosa sono riuscito a vincere il draft come potete vedere dalle varie vittorie sono riuscito a vincere tutto il draft e adesso anzi no ci andremo ad aprire i pacchetti del food draft alla fine quindi prima andiamo ad aprire i pacchetti normali come potete vedere ci sono i pacchetti e quelli da 15.000 quindi 300 fifa point beh non so se aprire questi qua perché c'è più possibilità comunque che escano giocatori rari ma vabbè si andiamo apriamoli si forza andiamo 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 schippa ma che merda ma che sono ste merda mi piegono i contratti sono le cose giuste per per andare avanti la squadra ma che questo ma che sta merda apriamolo un altro pacchetto da 300 fifa points vediamo cosa ci esce schippa mamma mia ragazzi ho trovato sarà uno così calmi tutti ho trovato sarà il salatino beretta della situazione poi ci abbiamo vise vacchi già del mettiamo mettiamo tutti nella squadra li mettiamo che ci vediamo due contratti ci andiamo ad aprire un altro pacchetto forse l'ultimo schippa rugani che merda ragazzi mamma mia rugani è una potenza però ve lo consiglio ma appena mi prendo i contratti mi bastano i contratti a me perché con meno con i contratti andiamo andiamo avanti la squadra e questi tre pacchetti sono andati malissimo non male quindi speriamo che troveremo qualcosa di buono nei pacchetti del futtra e apriamo un altro da 150 fifa points pacchetto oro norma chippa zago e mamma mia camenni mamma mia io non voglio essere l'assista ma un giocatore buono me lo potevi far uscire per favore perché l'abbia fatto uscire un giocatore del set una valava uscire un cazzo e perché 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 ma scarta tutto siamo arrivati al momento di aprire pacchetti ricevuti dal futtra come potete vedere abbiamo ricevuto un pacchetto mega un pacchetto giocatori rari max è un pacchetto premio bronzo di noi per iniziai c'è proprio questo bronzo ma che ci riesce un efe così schippa schippiamo mamma mia nulla di che scartiamo tutto ragazzi andiamo subito ai nostri due pacchetti rimasti del futra ci avremo il primo che scartiamo schippa schippa mamma mia ragazzi chissà quanto vale mamma mia ragazzi e non solo pure bravo che pina muslera tutti i giocatori buoni pure chissà alla bar c'è mamma mia i tre pacchetti di prima sono andati malissimo ma abbiamo trovato subito sbagli stagher ragazzi grande grandissimo pacchetto mi sa che giocherò un po di più il futra perché se io trovo questi questi giocatori dei pacchetti del futra diventerò ricco ci andiamo ad aprire quest'altro pacchetto del futra 3 2 1 schippa buono pure questo pacchetto ragazzi abbiamo trovato shakiri ottimo pure questo ragazzi abbiamo trovato shakiri un fuego e sarawi mamma mia non sapevo che era giocasse nella liga francese che non seguono molto il calciomercato ottimo così ragazzi prendo i contratti che so possono servire perché io ogni volta devo andare a ricerca ambe che i contratti ora si comprano a pochissimi anche a 150 li trovi ma comunque meglio avere in caso di necessità quindi abbiamo trovato escharawi shakiri giocatori che possono costare infatti se andiamo a vedere quanto costa praticamente il prezzo di escharawi che si può avviare sui 20.000 penso 5.000 10.000 6.000 6.000 crediti di 6.000 crediti sono sempre buoni all'inizio fifa come potete vedere ragazzi abbiamo trovato sbagli stagli abbiamo trovato shakiri e sarawi argenti ori di tutte di più abbiamo trovato ragazzi ma gli ultimi due pacchi dati dal futra mi sono piaciuto tanto poiché ci ha dato dei giocatori validi dei giocatori che valgono e finalmente ci voleva perché nei tre pacchetti maxi tre pacchetti maxi non abbiamo trovato assolutissimamente niente con questo non mi resta che di lasciare un mi piace di condividere il video di iscrivervi al mio canale se non vi siete iscritti tutti i link dei social in descrizione del vostro giudice tutto bella